Facciamo un bilancio dell'estate come sono stati i mesi estivi del 2023 a livello di clima. Sì, sicuramente il 2023 è stata una stagione estiva diciamo così in controtendenza a quella degli ultimi tre anni. Gli ultimi tre anni erano stati caratterizzati, purtroppo l'estate aveva subito la carenza di precipitazioni già dall'inverno precedente e dalla primavera precedente. Quindi ha portato a situazioni di crisi idrica soprattutto nella distribuzione dell'acqua cosa che invece quest'anno non si è manifestata perché abbiamo avuto un inverno e una primavera soprattutto molto piovose. E questo ci dà anche una lettura interessante sul fatto che nonostante l'estate da luglio in poi sia stata sicuramente caratterizzata come gli anni precedenti dal forte anticiclone africano che a più riprese ha dominato sul bacino del Mediterraneo il fatto di aver avuto delle ottime precipitazioni primaverili e invernali ha consentito comunque di superare in maniera diciamo così abbastanza indenne la stagione estiva. Ripeto, una stagione estiva che nei mesi di luglio-agosto è stata molto molto calda abbiamo quasi toccato i record degli ultimi anni i record di temperature ovviamente sono tutti del nuovo millennio ma appunto ci ha dimostrato ancora oggi possiamo vedere con una certa facilità il fatto che i boschi ancora sono abbastanza verdi quindi non abbiamo avuto questa carenza idrica che ha caratterizzato appunto le estati precedenti. A livello di millimetri di pioggia ascesi sono quindi stati diciamo abbastanza importanti distribuiti però come ricordiamolo? Dunque a fronte di un inverno piovoso e una primavera piovosa abbiamo avuto un inizio estate decisamente piovoso il mese di giugno ha superato i 200 millimetri cosa non comune nel nostro territorio e questo ha consentito appunto di diciamo così portare le falde idriche in situazione ottimale i mesi di luglio e di agosto nonostante il caldo hanno avuto passaggi perturbati molto veloci sono perturbazioni che vanno ad intercalare le successive le classiche invasioni dell'anticiclone africano però hanno consentito di mantenere insomma dei livelli idrici buoni il mese di luglio circa fatto un 70% delle precipitazioni previste il mese di agosto ancora meno siamo intorno al 40% però nel computo totale la stagione estiva comunque è risultato di una trentina di millimetri sopra la media attesa per il periodo Invece per quanto riguarda il punto di vista termico quindi le temperature? Dunque l'estate nel complesso è stata calda i picchi che abbiamo avuto a più riprese hanno portato una media estiva di circa un grado e mezzo sopra le attese ma questo è dovuto anche a una distribuzione un po' strana per l'andamento tipico dell'estate per esempio a metà di agosto normalmente nel nostro territorio i primi temporali le prime perturbazioni portano alla fine diciamo così al declino dell'estate quest'anno invece abbiamo avuto un mese di agosto decisamente atipico perché è iniziato in sordina abbiamo avuto quasi un grado e mezzo in meno nella prima decada quindi la prima decada possiamo definirla anche quasi fredda la seconda decada circa è nei canoni di stagione invece abbiamo avuto un forte incremento delle temperature a fine agosto cosa molto rara e sicuramente sono anche qui possiamo definirli dei record perché abbiamo rasentato i record dei quasi 40 gradi soprattutto a Fondovalle nelle zone tipo Fermignano abbiamo una stazione a Fermignano nella terza decada di agosto abbiamo quasi raggiunto i 40 gradi questa è sicuramente una situazione atipica ma ripeto se anche settembre si è presentato sotto il dominio anticiclonico ci vorrà del tempo insomma per ritornare nei canoni di stagione riguardo al futuro lei non dice mai niente però quello che ci si potrebbe aspettare per questo autunno e per l'inverno? dunque l'autunno il mese di settembre è il primo mese autunnale meteorologicamente parlando è un mese che purtroppo ormai sempre più spesso rispecchia l'andamento estivo diciamo ormai è diventato a tutti gli effetti quasi il quarto mese estivo delle nostre stagioni la conferma l'abbiamo in questi giorni siamo già a metà mese ancora non si sono viste precipitazioni anzi da oggi e per i prossimi due giorni sono previste incursioni di aria umida che potrebbero favorire qualche rovescio pomeridiano ma già da domenica è previsto un nuovo incremento della pressione e una nuova invasione al Mediterraneo da parte dell'aria ancora rovente che proviene dal Sahara grazie a tutti